La BBD Production e il campaniano Boxing Team Promotion presentano il main event della serata un incontro sulla distanza di 10 wals valevole per il campionato d'Italia e i 10 medi Il medico dell'incontro è il dottor Emiliano Bonanni di Roma Supervisore per la Federazione Fugilistica Italiana, signor Mauro Bezzi di Roma Giudici, signori Dario Bibiani da Grosseto, Sauro Di Clementi da Sanderfilo Amare e Giovanni Fiorentino da Gardone, Valtrompia, Brescia Arbitro dell'incontro è il signor Marco Moscatelli di Firenze Ed ora finisce il tempo delle parole e inizia la legge del ring All'angolo minuto, al peso di 72 kg, qui impattanoci i blu-bianchi e con un record a professionista formato da 9 i colli disputati 6 vittori per lui, una delle quali per capo, 2 sole sconfitte, 1 pari E lo sfidante ufficiale al campionato d'Italia dei peci medi Anso l'angolo di Covado Iacono Aldo Guero e Antonio Armeno Per la Fugilistica Guero Zarato, Cacapurso Bari, Marco Vereno Boezzi Il secondo avversario, all'angolo rosso, al peso di 72.400 Il pataloce di Bianco Moro con un record a professionista formato da 13 i colli disputati 11 vittori per lui, una delle quali per la capo, una sconfitte e un pari E il campione d'Italia in canica dei peci medi E la campione d'Italia da Emiliano Sinisti, Maurizio Prestiglino, il catman da Federico Capizzone E il suo manager, Davide Buccioni Per la BBT Productions Da Roma Milko Geografo E ora abbiamo parlato di un incontro il signor Masco Moscatelli Per Marco Boezio Per Marco Boezio E per Milko Geografo Ascoltiamo l'inno di Moeli E per Milko Geografo E per Milko Geografo E per Milko Geografo Reggare Pasco E per Milko Geografo Queen Dica E per Milksi Grazie a tutti. 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 a tutti.